Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono IckdiSubaruBarakakaka e oggi siamo su Trollface Quest 3 A beh raga, lo so che praticamente stiamo facendo un po' di sordine prima Trollface Quest, poi il 5, poi il 3, però praticamente e visto che ovviamente il nostro IckdiCapitalLegnata ha voluto fare prima il 5 poi mi ha detto IckdiSubaruBarakakaka perché non fa il 3, poi il 2, poi il 4 tanto non fa niente, l'importante è che li facciamo allora io ho voluto farlo, altrimenti non si levava più dalle orecchie quindi cominciamo, non vedo l'ora di vedere come si Trollano non vedo vedere, non voglio, voglio proprio vedere, sono curioso di vedere come si Trollano perfetto, la Troll pianta bellissima, proprio al suo, cos'è, oddio hanno rubato, hanno rubato la Trollisa, la Trollisa, la Trollisa è sparita e noi la dobbiamo recuperare, vai allora, c'è questa, asplode, cioè non sono neanche partito mi cade una stella cadente, cioè non ho capito, ma perché, ma perché, ma perché aspetta forno, sì, vai dai 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 dai, ma no donna mia, ma non è possibile, niente allora, sono appena partito, aspetta forse, ah mamma mia cioè, ma dai, ma sono appena partito, non è possibile, mi cadono di tutto vabbè, cliccami e esplodo, perché esplodo, oddio mio oggi in questo gioco ci saranno tutte bombe cioè, c'è scritto, cliccami, grande, quanto una casa io che faccio? Clicco e esplodo cioè, non, allora, ci sta solo no, non c'è niente, allora, ci sta solo cliccami no, niente, allora, non si può, a meno che, aspettate un attimo menù cazzo, no, non ha senso, vabbè allora, questo qua gli doveri dare una mela eh, sì, così tu dai una mela a una ragazza, eh ce la butti in faccia che maleducato, guarda, tiene altre 2000 però, eh, in tutto abbiamo 3000 cos'è questo? Ah, sogna la mela mangiata, ma che schifo eh, vabbè, mangiatela no, gliela devi mangiartela, non gliela devi buttare addosso, allora, vuole la come, cos'è, ok, adesso ma c'è, ah, ma che schifo che schifo, vabbè eh, cosa, allora, questo qua deve arrivare alla bandiera che cazzo ridi ma non lo so che cazzo, oddio, cos'è ah, praticamente adesso se vai giù, cioè se vai a sinistra, vai a destra se invece vai a destra, vai a sinistra oddio che cazzo è, no, niente, io l'ho detta in questo gioco, in questo gioco ci sono tutte bombe, cioè non ho capito, cioè, raga, praticamente noi quando siamo nella bandiera, se noi tocchiamo queste cose qui, eh cioè, esplodiamo, vabbè dai, 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 dai dai, dai, dai sì, ok allus, dai, ci sta questo caro armato ai cos'è, oddio, ma che cazzo perché, perché crolla il punto vabbè, pensavo che mi cade una stella cadente addosso, invece no, crolla il punto allora, adesso mi dite cosa cacchio devo cliccare che qua non c'è aspetta, a meno che non devo cliccare questo ah, perfetto se la fa a piedi mi sembra giusto perché tanto lui pesa di meno e quindi il ponte non può cadere allora, qua che devo cos'è? respira sott'acqua mi spiegate un po' come far respirare sott'acqua? cioè, c'ha solo la maschera e non c'ha il tutta da sub ah, ecco, perfetto muore cioè, praticamente sta sott'acqua, no? quando respira cioè, trattieni il fiato poi quando respira muore vabbè, mi sembra giusto, eh allora, forse devo cliccare qualcosa di nascosto forse queste pietre no, niente da fare ah ah, perfetto era una specie di cesso benissimo bellissimo cosa c'è? questo qua gli sta per sparare sì cos'è? ginocchio in piedi, ginocchio decidi cos'è? no, niente non si decide vabbè, muore ti ho dato troppo tempo per decidere e, aspetta sì, vai cos'è adesso? è inciampato perché è inciampato? non lo so vabbè andiamo avanti mi cade la mela no, niente è apparsa allora devo cliccare forse devo cliccare questo no, che cazzo devo cliccare cos'è? ah, perfetto se mi cade la mela grande e che cazzo? cos'è? cos'è questo? toc 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 chi è in casa? toc toc oddio che cazzo? che cazzo oddio ma che cazzo è? oddio ma che cazzo? no, ma dai ma che è sta trollata? è mevo si cioè, ya non è possibile uno che va vicino al muro e cambia stra cioè, ma non è possibile no, no vai dall'altra parte ma questo è imbecille proprio dobbiamo mettere pure sui muri vai dall'altra parte allora, cos'è? chiama troll 333221 mi piace questo 333221 333221 non vorrei che questo fosse una bomba atomica che esplode il telefo no, ho occupato ho occupato sta facendo una pippa a Peppa Pig 333221 chiama niente da fare sta scritto aspettate un attimo forse chiama troll forse chiama troll ecco perché ci sono le lettere l'allora si sta lavando i denti perfetto va bene cos'è? dai la merda perché esce sempre merda? io non lo so cos'è? esce sempre merda allora cosa cazzo? niente 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 allora aspetta un attimo c'è qualcosa qui cos'è? no cos'è? aspetta un attimo c'è qualcosa qui no oh aspettate ragazzi c'è qualcosa che non riesco a prendere madonna mia ragazzi aspettate un attimo andiamo c'è che ci sta questa piccola cosa no niente 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 cos'è? cazzo oddio beh bellissimo troll face giovane proprio guarda è bellissimo me lo immagino con la moto con i capelli al vento proprio sarebbe bellissimo allora devo diventare giarnigliere vai dai non me la cavo tanto male però eh mi fatti una merda proprio vado una merda allora forse devo mettere questa no non te la fai aspetta allora devo fare così a fine adesso tutto bene allora forse poi devo fare questa si benissimo ho dato vita alla troppianta benissimo sono un cos'è questo qua perchè l'alberto che c'è non ha senso datemi cos'è perchè ride che c'è una jitana una sciata e ride che cazzo c'è non lo so la prima la prima botta ride la seconda botta mi cade addosso va io non lo so c'è cos'è questo ride questo è soffresso l'etico non ha senso questi alberi non hanno veramente senso cos'è sta faccia del cazzo cos'è il cazzo perchè oh perchè stai allora cioè datemi una motivazione a tutto questo cioè non lo so apro cioè quanto tanto perdo quando questa lampada se ne va cioè ma mi spiegate il motivo io non lo so cioè ma devo allora g che cazzo aspettate un attimo raga non ho capito che aspetta no 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 oh oh no allora aspettate un attimo raga non ho capito questo è ah perfetto dovevo girare cioè praticamente dovevo farlo funzionare allora finish no allora non prendiamoci per il culo non prendiamoci per il culo non so se la tua barca hai messo l'elettromaccia devi andare lì de veramente non li capisco questi devi andare lì lo vedi finì scritto grande quanto una casa come clicca me devi andare aspettate un attimo raga forse no io lo sapevo io lo sapevo veramente io lo sapevi giuro che lo sapevo cioè ogni volta che c'è un bersaglio che uno deve compiere un bersaglio noi dobbiamo avvicinare il bersaglio se invece dobbiamo raggiungere il traguardo noi dobbiamo avvicinare il traguardo non ha senso che sento che sento io so cosa sento ma che senso ha non non ha senso eh che cazzo che cazzo è perchè ce ne lo so i cadi un cocco in testa e questo qua si mette a fare il ballo del cocco qua ma che aspetta un attimo raga ma qua c'è che cazzo che cazzo è il troll mostro cos'è 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 ah è felice pure lui che vuole ballare pure lui è la danza del cocco benissimo cos'è ah qua devo aggiustare il televisore allora come giardiniere faccio schifo però vediamo se faccio schifo pure come aggiusta televisore qua allora dai non me la cava tanto male però dai vai niente ho scassato il televisore benissimo aspetta allora forse devo cliccare un a caso no perchè forse un a caso ah perfetto devo cliccare l'ultimo benissimo il cronista troll cos'è ah benissimo vai le cinque differenze allora benissimo bellissimo uno una trollisa un'altra è una trollisa senza denti con un cornuta che si droga pure ma vai la prima differenza è questo i denti questo poi cos'è poi l'altra ah aspetta l'occhio l'occhio e ovviamente la quinta dobbiamo metterci un'eternità ovviamente perchè il gioco si basa su questo ahhh ne cia misera allora forse no che forse aspettate forse sono le ditte no niente le ditte sono sempre le stesse il seno no sempre lo stesso il naso forse no ehm allora forse devo cliccare qualcosa coso oddio che cazzo datemi una motivazione a tutto questo datemi una motivazione nei commenti scrivetemi una motivazione a tutto questo perchè non ha senso cioè una trollisa immaginiamo che stiamo praticamente in un museo con la trollisa e dietro la trollisa ci sta la nuvola di troll face che vabbè finale comico vediamo un poco cos'è abbiamo recuperato la trollisa vai adesso e si fottia un'altra statua cos'è venus de trollo oh my god vabbè non ci ho trovato un senso in questo in questo gioco e sinceramente in tutti i troll face non ci troviamo mai un senso perchè c'è proprio il gioco consiste in trollarti in modi assurdi ehm vabbè concludo qui il video eh concludo qui il video spero che mi sia piaciuto di come mi hanno trollato e vabbè la prossima volta faremo mh io e xd cap da legnati xd burning light xd astro beam i troll face quest 2 e troll face quest 2 e 4 speriamo che non ci arrivano pur il 6 perchè noi in questi giochi veramente usciamo di testa vabbè ehm noi ci vediamo nel prossimo video qui da xd subaru baraccacacca e commentate e iscrivetevi ciao